Eventi come questo sono eventi importanti per far incontrare tutti coloro i quali si occupano a vario titolo delle tematiche del lavoro, quindi diciamo che aiutano a forme di collaborazione e di cooperazione e aiutano comunque a scambiarsi opinioni, a fare dibattiti e ad investire sul lavoro nel nostro paese. L'intelligenza artificiale ha un impatto e ha un impatto sul mondo del lavoro e sulla stessa evoluzione del mondo del lavoro. È un'evoluzione che va tenuta in considerazione, che va guardata e osservata nel modo corretto e può portare sicuramente da una parte a maggiore produttività, può portare alla richiesta di maggiori competenze da parte dei lavoratori, potrà portare forse in futuro anche a una riduzione delle ore di lavoro dei lavoratori e quindi c'è una transizione in atto che va osservata con attenzione e va governata. Questa è la cosa più importante. Il fondo nuove competenze è un fondo che io creai durante il mio percorso da ministro ed era un fondo nato proprio con queste intenzioni, cioè quello di investire nel capitale umano, investire nelle competenze e accompagnare l'evoluzione del mercato del lavoro.